Minacciato con un coltello mentre stava salendo in auto dopo essere uscito da un locale, attimi di terrore quelli vissuti giovedì all'alba da un trentenne padovano. Il giovane, figlio di una delle glorie del calcio padova, Nanu Galderisi, si è trovato faccia a faccia con due rapinatori che armati di coltello gli hanno intimato di consegnare i soldi. La rapina si è consumata in via Vicenza, poco lontano dal cavalcavia. Il ragazzo era appena uscito da un locale e si stava dirigendo alla macchina. Qui sarebbe stato accerchiato da due uomini, secondo la descrizione fornita sembrerebbero due nordafricani che gli hanno puntato l'arma contro. Spaventato il giovane Galderisi ha consegnato subito il portafoglio con 120 euro, poi quando i due sono scappati è corso a casa e all'indomani ha sporto denunce ai carabinieri di Prato della Valle che ora stanno indagando sull'ennesima rapina compiuta in città.